La prima questione è stata sollecitata all'agenzia che presiedo da una richiesta e da una denuncia, denuncia nel senso buono del termine, perché in un paio di regioni italiane alcune associazioni di volontariato, per essere espliciti le misericordie della Toscana, che adesso vedo aperto anche in terra di Romagna, se non vado errato a Forlì, una loro associazione, e svolgono da diversi anni, come sapete, attività commerciale prevalente. Allora, il punto è che il decreto 460 del 1997, quello che istituisce le ONLUS, in un certo punto, l'articolo 10, stabilisce che per essere ONLUS un'associazione, quale che essa sia, non può svolgere attività commerciale prevalente, il che vuol dire, al contrario, può svolgere attività soltanto commerciale o estemporanea, o comunque limitata nelle dimensioni. Una circolare successiva del Ministero dell'allora Finanza aveva anche stabilito cosa vuol dire prevalente o no, ma non stiamo a discutere di questi cavigli, perché tutti capiscono cosa vuol dire prevalente o no. Fatto 100 il budget di un'associazione, è chiaro che se l'attività commerciale supera, supponiamo, il 50%, quella diventa prevalente. Poi, se la prevalenza è definita da 30% o 40%, quella è un'altra questione. Ora, il problema è nato perché quelle imprese e diverse cooperative sociali hanno sollevato la questione. E cioè, il punto è, se un'associazione di volontariato svolge in maniera sistematica e continuativa un'attività commerciale, cioè un'attività a fronte della quale c'è un pagamento di un prezzo, non un contributo, ma di un prezzo, che è un prezzo di mercato, è chiaro che questa attività finisce col provocare un crowding out, cioè, crowding out vuol dire spiazzamento, letteralmente, di quegli altri soggetti che nel medesimo territorio, nei territori limitrofi, svolgono analoghe attività. E questi altri soggetti possono essere imprese for profit, oppure imprese, come le imprese sociali, le cooperative sociali, che sono non profit, ma che svolgono come loro attività principale questa.